we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi patch 8.4 finalmente disponibile per tutti noi giocatori di fortnite come vedete alle mie spalle la novità più interessante che è quella che vi avevo anticipato nei miei precedenti video è la nuova modalità a tempo limitato aviazione reale pilota il tuo x4 stormwing in questa modalità a tempo limitato e combatti fino all'ultimo avversario domina i cieli e completa sfide gratuite per sbloccare nuove coperture quindi ragazzi ai 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 un bel po di premi per questa modalità disponibile appunto al termine dell'aggiornamento tanta tanta roba ma andiamo avanti ed ecco qua un'altra cosa che viene modificata una nuova versione leggendaria ed epica del fucile da fanteria dovete trovare ovviamente le varianti in game saranno disponibili nel loot a terra nei chest e anche nei drop e si potrà utilizzare ovviamente per i danni a una media lunga distanza ma torniamo un secondo a parlare dell'aviazione reale allora l'aviazione reale si gioca solo in coppia quindi non disponibile per la modalità singolo ciascun aereo a tre vite i giocatori si rigenerano infinitamente finché non si perde l'ultima vita dell'aeroplano il giocatore che tocca terra con l'aeroplano viene eliminato immediatamente parcheggiare un aereo per pochi secondi lo farà esplodere quindi non potete assolutamente atterrare dirottare un aereo di un'altra squadra aggiunge a quell'aereo aggiunge quell'aereo al numero di vite del nostro aereo e farà ovviamente perdere una vita agli avversari la tempesta invece ha un'altezza massima che scende gradualmente durante la partita attenzione a non volarci dentro attenzione anche perché dal cielo cadono forzieri di bottino di cinque rarità diverse ovviamente consentiranno ai giocatori di potenziare le armi che abbiamo preso e incrementare per un breve tempo le armi dell'aeroplano se i giocatori ricevono un forziere con dentro un bottino che ha un'arma che già possediamo riceveremo invece munizioni extra non l'arma si possono trovare anche dei kit di riparazione fluttuanti che curano gli aerei danneggiati quindi ragazzi non vedo l'ora di giocare un po questa modalità che deve essere super super divertente ma arriva anche un'altra modalità a tempo limitato che è la battaglia con il cibo frittura due squadre ai lati opposti della mappa ovviamente un enorme barriera al centro un po come avevamo già visto che la la ma attenzione perché la lava che è presente in game sale gradualmente dal basso costruisci un forte per proteggere la mascotte del tuo ristorante ovviamente parliamo un attimo al volo dei dettagli nei primi minuti c'è una barriera invalicabile come quella che già conosciamo e che non si può oltrepassare abbiamo un ristorante in costruzione ogni squadra dobbiamo ovviamente proteggere la mascotte al suo interno se la testa viene distrutta abbiamo perso anche la possibilità di rigenerarsi i giocatori devono usare il tempo in cui la barriera è attiva per costruire ovviamente una fortezza insomma l'abbiamo già capita modalità del cibo e in questa modalità sono non sono presenti armi o oggetti esplosivi invece c'era nella nostra vecchia modalità niente lanciagranate niente granate niente dinamiti niente rpg ovviamente vinca il migliore ma ragazzi un grande grandissimo ritorno il lancia uova per chi non l'ha mai visto è tornata la skin per il lanciagranate a tema pasquale tanta tanta roba non è niente di esagerato è solamente una modifica grafica ma è veramente super bello da utilizzare modifiche anche per il fucile da fanteria hanno aggiunto delle variante per i vampa fucili quindi epico e leggendario i danni sono 42 nella versione epica 44 nella versione leggendaria la troviamo come avevo già detto per terra nei forzieri nei drop e utilizza munizioni medie adesso ragazzi in game si può coccolare il cane e altri animali abbiamo delle nuove animazioni per i nostri animali il nuovo è invece bonus per i punti esperienza agli amici giocati in team è stato migliorato invece di dare un piccolo incremento a ciascun amico del tuo gruppo ora otteniamo un incremento maggiore se fai gruppo con più persone molto bello ovviamente il bonus rimane lo stesso il 120 per cento ma sarà molto più facile mantenerlo attivo in poche parole gioca qualsiasi partita con qualsiasi numero di amici e otterrai la stessa quantità di punti esperienza di chi sta giocando con una squadra completa di amici con il pass battaglia tanta tanta roba arriva anche ovviamente la nuova competizione questo weekend il primo torneo di qualifica della fortnite world cup in coppia con monte primi totale di un milione di dollari ovviamente sappiamo benissimo che tutte le regole sono esattamente uguali a quelle viste settimana scorsa passano i primi quattro in europa nel torneo della domenica dobbiamo qualificarci in quello del sabato modifiche anche per le prestazioni hanno migliorato la possibilità di far girare fortnite sui computer un po più datati quindi molta molta roba si parla principalmente con le cpu inferiori al quad core ci sta modifica anche per le animazioni dell'arco adesso è molto più facile vedere da dove ci sparano e l'animazione proprio del colpo che va a segno per quello che riguarda invece l'interfaccia utente viene introdotta alla modalità muta forma quando accedete alla ruota delle motte adesso compare un'opzione se state guardando un giocatore che usa un emote che avete anche voi quindi potete farla insieme in lobby quando si nascondono elementi nell'interfaccia delle opzioni alcuni di loro vengono compressi per risparmiare lo spazio che occupavano quindi molto più bella da vedere risolti anche dei bug per quanto riguarda il replay principalmente sul drone libero adesso è più comodo da utilizzare modificate modificata per chi gioca da cellulare i comandi della girosfera quindi un pochettino più comoda da utilizzare e adesso gli indicatori audiovisivi di sparo sempre perché gioca da mobile non verranno più visualizzati per i giocatori nello stesso veicolo corretti una fucilata di bug ma invece per la modalità creativa arriva ragazzi il nuovo ordigno speriamo che prima o poi arrivi anche nel battle royale in questo con questo ordigno distruzione e demolizione sono davvero molto molto facili andiamo un attimo a vederlo se riusciamo a trovarlo velocemente se danneggiato durante una partita il dispositivo esplode e danneggia gli oggetti e i giocatori circostante ovviamente si possono utilizzare massimo 100 ordigni per ogni isola i giocatori subiscono veramente un sacco di danni così come le strutture ci sono veramente un sacco di cose relativi a questo ordigno vi invito ad andare sul sito ufficiale della patch notes per ovviamente dargli un'occhiata e poterlo provare nelle vostre isole personalizzate insieme a tutte le nuove migliorie che hanno fatto per rendere sempre l'esperienza di gioco al 100% chiudiamo velocemente con save the world arriva il coniglio luna mastino quindi un nuovo soldato disponibile per il tempo limitato di pasqua hanno sistemato anche anzi hanno aggiunto la tempesta beta proviamo il limite è tornato adesso il numero di porte per gara è stato aumentato da 4 a 6 è stato aggiunto un filmato per chiarire quando inizia la gara e attenzione agli abietti impedite loro di distruggere il portale o non potrete ottenere un distintivo platino durante la gara un sacco di migliorie sia per le prestazioni sia per l'interfaccia utenti sia per gli eroi sia per i bug insomma hanno veramente migliorato tantissime cose ragazzi per adesso la patch notes è arrivata alla fine vi invito ad andare a trovarla e a leggerla completamente sul sito di ap games vi ringrazio per averlo guardato e porca miseria non vedo l'ora di vedervi live alle 13 noi ci vediamo presto ciao 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 ciao